Percessione della Vergine Immacolata, Regina della Pace, Dio Onnipotente Buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Cantiamo insieme la buonanotte e salutiamo la Divina Vergine Immacolata. Hanno invocato l'intercessione dell'Immacolata per la pace nel mondo. Condiviso e partecipato il momento di preghiera ieri sera sul Sagrato della Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco con l'esposizione della venerata immagine dell'Immacolata. E' seguita la recita del Santo Rosario per la Pace con tutte le comunità parrocchiali di Torre del Greco. Non è mancata la partecipazione dei cittadini, tante infatti le fiaccole di speranza accese in piazza. Il momento di preghiera si è concluso con la buonanotte a Maria e il rientro in Basilica. Il momento di preghiera si è concluso con la buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria. Buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria. Buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria. Buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria. Buonanotte a Maria. Buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria. Buonanotte a Maria e il rientro in cui si è concluso con la buonanotte a Maria. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.